Buongiorno amici, diamoci da fare, dai ammazziamo il tempo, prima che il tempo ammazzi noi, vabbè, allora, avanti, pronti? Avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dov'è, 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 dov'è? La gioia dov'è, 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 mi chiedo dov'è, la gioia dov'è, guarda, è proprio maghi, ecco, io avrei fatto vincere loro a Sanremo, proprio, guarda, loro ci hanno indovinato in pieno, guarda, vabbè amici, io continuo ad allenarmi, mi raccomando, fatene anche voi, non mangiate troppo, baci grandi a tutti!